Dopo il successo della mostra dedicata alle fotografie di Arturo Gergo a Montefano, domenica 30 marzo, il sindaco Carlo Carnevali ha tagliato il nastro che delvia l'esposizione dei dipinti di un altro grande artista montefanese, Guelfo Giorgetti. Giorgetti è nato a Montefano nel 1875, morto e sepolto nel suo paese d'origine nel 1935. E quest'oggi finalmente dopo un lungo periodo di trattative con il comune di Fermo che ringrazieremo mai abbastanza, siamo riusciti a portare a termine quest'altra iniziativa che è la mostra del pittore di fama nazionale, Guelfo Giorgetti, che è vissuto qui a cavallo del Novecento, tra gli ultimi anni dell'Ottocento e i primi del Novecento, ed ha avuto una produzione artistica piuttosto notevole. Qui a Montefano siamo riusciti a portare 23 delle sue innumerevoli opere che sono state donate nel 1974 per una ragione per la verità che a me è sconosciuta e quindi cercherò di capire bene per quale ragione un pittore montefanese abbia donato tutta questa sua produzione pittorica, artistica, al comune di Fermo invece che non a Montefano, però purtroppo le cose sono andate così. Sono circa una trentina le opere esposte a Montefano, opere che giungono dalla Pinacoteca di Fermo, dove sono custodite da quando la figlia del pittore ne fece donare al comune. Non credo che riusciremo a far breccia nella sensibilità dell'egresa ottima sindaco di Fermo, la professoressa Brambatti, alla quale aveva accennato, però non mi ha dato una risposta. Significa che difficilmente rinuncerà a quanto gli eredi di Giorgetti hanno lasciato a quella comunità. Anche perché ha un valore intrinseco queste opere di una notevole portata. Abbiamo dovuto sostenere una certa spesa, voglio dire, sotto l'aspetto assicurativo, notevole proprio in funzione del valore delle opere. Giorgetti ricevette i primi rudimenti di pittura da Nazareno Orlandi, poi trasferitosi molto giovane in Argentina con la famiglia, frequentò i corsi dell'Accademia di Buenos Aires, dove affrescò la cupola del Teatro Colon. Nel 1900 rientrò in Italia per dedicarsi alla pittura e alla decorazione. Nel 1933 eseguì i freggi decorativi di alcune sale del Ministero della Giustizia a Roma. eseguì numerosi disegni e dipinti di figure in costume caratteristici della regione marchigiana. È un artista molto interessante, gli eredi suoi hanno lasciato un cospicuo corpus di sue opere alla Biblioteca Spezioli di Fermo e da questo corpus noi abbiamo estratto praticamente 23 opere tra disegni, tele, eccetera, che rappresentano bene il percorso artistico del Giorgetti. Un percorso artistico che tra 8 e 900 in qualche modo delinea una predilezione da parte sua per dei soggetti di carattere realistico, una resa molto realistica, quindi se vogliamo ancora di ascendenza accademica, ottocentesca. I generi praticati da lui sono appunto il ritratto, sono i progetti decorativi per palazzi e anche dei soggetti diciamo di genere e all'inizio l'introduzione della mostra è data ad alcuni bellissimi suoi disegni di gusto accademico legati proprio alla formazione, dove il pittore si cimenta nella riproduzione di rilievi classici, esercizi di stile, e come era d'uso nella formazione dei pittori della seconda metà dell'Ottocento. Una mostra come quella di Guelfo Giorgetti vuole essere punto di riferimento della nostra memoria storica, dedicata soprattutto alle giovani generazioni.